Ma direi principalmente sulla produzione alimentare, perché? Perché comunque penso che in Italia sia indiscutibile quello che è il valore a livello mondiale culinario, quindi perché non sfruttare questa occasione, penso, unica. L'avere avuto la possibilità a livello mondiale di organizzare un evento di questo genere importante, dal momento che siamo i maestri di quello che è il tema, penso sia veramente un'occasione unica. Ovviamente da buon italiano mi piace molto la cucina in genere, per quello che è il mio stile di vita, quindi da un albergo all'altro, comunque sempre in giro per il mondo, cerchi di adeguarti un pochino a quello che sono le varie località e questo è, insomma. Ovviamente sono molto legato a quello che è la mia terra, perché abbiamo dei prodotti tipici molto importanti, anche a livello mondiale, quindi spero di poter in questo modo valorizzare quello che è il nostro territorio. Grazie.